Ecco come viene costruita una casa americana, vengono applicati tutti quei cosi lì, fatti di lana, isola, il calore. Allora, prima hai fatto tutto di legno, adesso vi faccio vedere, perché qui stanno costruendo un sacco di case, no? Prima c'è tutta un'imparcatura di legno, e poi ci mettono lì tutto che viene isolato, perché il legno, già il legno e due spanne sopra il cemento come isolante, no? E adesso qua scateneremo il putiferio, però invece è vero, è più ecosostenibile, è più pulito, è più tutto, ovviamente ci sarà il classico che dice, ma quando arrivano gli uragani? Eh vabbè, allora quando arrivano i terremoti, perché ai vostri resistono, non resistono. Ecco, questo è il prodotto finito. Comunque, io ho guardato, e molti dicono che il legno come isolante è meglio, in più, c'hanno pure questa specie di lana dentro, lana di vetro che isola tutto, ecco questo è il prodotto finito, e basta, tutto qua. Allora, ciao!